Ciao amici, eccoci al presente. La foto e i due video che ho appena messo fanno parte degli anni passati. La foto e i due video che ho appena messo fanno parte degli anni passati. La foto e i due video che ho appena messo fanno parte degli anni passati.